Senatrice Chiavaroli con Civica Popolare, volete dare seguito all'azione di governo degli ultimi cinque anni? Noi ci candidiamo in continuità con il governo Gentiloni perché siamo convinti che l'Italia sia sulla strada giusta. Certo ci sono ancora tante cose da fare e proprio per proseguire un lavoro già iniziato che noi ci siamo candidati. Noi abbiamo fatto qui in Abruzzo delle liste forti, delle liste con politici già impegnati che hanno dato già buona prova di sé ma anche con tante persone nuove di tutti i settori, professionisti, persone impegnate nel sociale, persone impegnate nella scuola a testimonianza che questo è un progetto serio, credibile e che incontra anche il gradimento delle persone comuni, di quelli che in politica non si erano mai impegnati e che hanno deciso oggi di impegnarsi con noi. Vogliamo continuare con il programma Industria 4.0, vogliamo continuare a lavorare per il sociale, per gli ultimi. Noi abbiamo fatto un grande lavoro sulla povertà, di contrasto alla povertà, un grande lavoro di sostegno per i disabili, con la legge sul dopo di noi, con la legge sui caregiver. Noi abbiamo fatto anche un grande lavoro per esempio nel mio settore che è la giustizia con il processo civile telematico e quindi tutte queste riforme che abbiamo fatto necessitano di essere continuate, necessitano di essere potenziate e noi per questo ci candidiamo per recuperare anche una dimensione di serietà della politica perché il tempo di più tutto per tutti è finito.